Castello del Piano, chiesa di Santa Maria, una delle tante con il campanile distaccato. Grazie a tutti. Siamo a Castello del Piano, la chiesa vecchia, da non confondere con quella nuova. Abbiamo un concerto di quattro campane, di cui le due maggiore elettrificate, fuse dai ballini. La terza, non elettrificata, lasciata a corda, ma la corda non c'è neanche l'ombra, fusa da Raffanelli di Pistoia nel 1881. La quarta, la piccina, venne aggiunta in occasione del 25esimo anniversario del Santo Croce Fisso, quando venne restaurato tutto il concerto campanario nel 1995, fusa dalla Mazzola. Se ci dà un colpo sentiamo la campana grande. Ha fatto uscire anche il sole in questa giornata di pioggia, nonostante continua a piovere, ma almeno è uscito il sole. Seconda campana, Baldini. Terza, Raffanelli. Il suono è un po' ovattato, dato dal mancato utilizzo e dalla notevole ruggine del battaglio. E la quinta è questo, il battaglio non ce l'ha per niente così non si arrugginisce. Sentiamo. Vabbè, lo sentiremo meglio. Vediamo sullo sfondo. Pila. E la chiesa di San Pio, sempre di Castel del Piano. Quella con il Carillon. E la chiesa di San Pio, sempre di San Pio, sempre di San Pio, sempre di San Pio. E la chiesa di San Pio, sempre di San Pio. E la chiesa di San Pio, sempre di San Pio, sempre di San Pio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una Raffanelli e una Mazzola. Le due maggiori sono inceppate a slancio veloce e suonano a bicchiere. Le due minori sono fisse. Con questo concerto è possibile eseguire, al di là delle due distese singole, sette sonate composte, ossia due dindon. Il primo con la distesa della seconda e il martello della terza. Il secondo con la distesa della grossa e il martello della seconda. Poi ci sono due rinterzi e due falsetti. Il primo rinterzo, possiamo dirlo all'antica, ossia con la campana maggiore a bicchiere e la seconda e la terza a scampanio. Questo ricorda il rinterzo originale, prima che venisse aggiunta la quarta campana nel 1995. Con questa quarta campana è possibile un altro tipo di rinterzo. Stessa cosa vale per il falsetto. Quindi ne avremo uno con soltanto la prima e la terza campana, quelle più antiche, e poi un altro con le quattro campane. La settima suonata è un rinterzino, con la seconda a bicchiere e terza e quarta a scampanio. La settima suonata è un rinterzo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.